ah finalmente polvere prova speciale si mangia anche qui in messico vediamo quali sono le specialità mazza di maiz e stori sono i voli da la holla picadillo con papi cadilla huevo con chile charron prensado charron duro salsa de molca gente con mucho picante palitos y tambien tenemos guacamayas bolillos con duro de puerco muchas grazie signorita fornada manzana Grazie a tutti i nostri amici.